Voglio un report dettagliato sulla mia e-mail. E domattina briefing alle 9.30. Report e briefing. Perché in italiano si sente meno credibile. Lei sa che donna era Petra prima? Un avvocato di successo. E lei lo sa che donna è Petra adesso? Per non parlare poi di certi interrogatori. Questo non è legale. Violentare una ragazza non è legale. Tutto condito da un vernacolo spettacolare. È vero che questa è la sua prima indagine? È vero che voi giornalisti non vi fate mai cazzi vostri? Ispettore, c'è un'altra vittima. Cinque coltellate, date fronte al monte. Se l'hanno ammazzato, per qualcuno doveva essere importante. La domanda è, qual è la relazione che lega questi due morti? Lui le butta a terra, così, con qualcosa che ha al braccio. Ha anche dichiarato che ci sono stati dei palpeggiamenti e delle soluzioni mammarie previe. Monte, ma come cazzo parla? Entra da sola, va. Non vorrei metterla a disagio col mio eloquio scurrile. Questa vita che ti sei scelta? È la mia vita. Appena hai qualcosa di bello tra le mani, non vedi l'ora di distruggerla. A lei è stata sposata due volte. Per me è il matrimonio per tutta la vita. Io dei miei due mi ero già pentita al sito. Che vuoi? Parla. È orgoglioso delle sue azioni, lascia il suo marchio e se ne va. Io non so ancora chi è, ma so com'è. Questa è arte che capisco. Antonio, questa è una crosta. Appartiene alla mia famiglia da più di 200 anni. Meraviglioso. Complimenti. Grazie. Grazie.